e con lo spirito santo in noi diventeremo vivente e vivente e vivente meraviglioso signore veniamo a te nel nome di Gesù ciao ciao a tutti noi siamo Ciacchepina noi siamo qui in questo studio che è uno studio televisivo della televisione cristiana in Italia la TGI e siamo qui come spesso siamo perché vogliamo presentarvi un'altra trasmissione di per lodare te e sempre chiediamo al Signore di usarci per lodare e glorificare Lui perché non è mai il nostro intento il nostro desiderio che noi potessimo essere glorificati o lodati per niente noi abbiamo capito benissimo che siamo dei privilegiati ma non privilegiati perché siamo migliori degli altri ma privilegiati perché abbiamo la possibilità di utilizzare uno mezzo come la televisione per proclamare la parola di Dio per condividere l'amore di Dio che abbiamo sperimentato noi quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo come il nostro Signore e Salvatore e vi posso dire che per noi è impossibile non dire agli altri quello che abbiamo ricevuto perché è quello che abbiamo ricevuto che Dio ha voluto per tutto il mondo incluso te perciò come potremmo non dirti che Dio ti ama come ama noi che ha mandato il suo unico Figlio Gesù come sacrificio per i tuoi peccati come per i nostri peccati che Dio vuole che tu possa sperimentare il suo amore nella tua vita che tu potessi diventare ricevendo Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore un figlio di Dio, una figlia di Dio per il mondo, per gran parte del mondo almeno le cose che noi stiamo condividendo, dicendo in queste trasmissioni sono delle folie ma hanno pensato anche così di Gesù hanno pensato anche così dei profetti nei tempi antichi perché la gente che non ha mai incontrato Dio non può immaginare quanto Dio è amore non può immaginare quanto la loro vita è importante per Dio perciò noi, anche se siamo incapaci, umanamente parlando avendo ricevuto lo Spirito di Dio siamo costretti a condividere ciò che abbiamo ricevuto è troppo importante per noi che anche tu abbia almeno l'opportunità di conoscere il Signore e il suo amore per te io so che per noi cristiani molto spesso vogliamo dire che è importante il Nuovo Testamento che riferisce ai cristiani, a noi il modo di vivere, quello che è stata la vita di Gesù sulla Terra, la sua crocefissione, la sua risurrezione e molto spesso siamo tendenti di lasciar stare il Vecchio Testamento troppe cose che sono difficili per noi comprendere troppe cose che non, secondo il nostro modo di pensare che non hanno importanza per noi oggi è l'Antico Testamento noi vogliamo vivere nel Nuovo Testamento ma non possiamo immaginare quanto stiamo perdendo quante ricchezze che perdiamo se non leggiamo se non ci lascia guidare dello Spirito Santo anche nel Vecchio Testamento oggi Pina ha un passo del Vecchio Testamento nel libro dei Re, secondo libro dei Re che dovete veramente ascoltare io sono convinto che questo passo cambierà la vita di tante persone se ascoltate è una ricchezza che non possiamo lasciare indietro è una ricchezza che dobbiamo avere insieme al Nuovo Testamento anzi, molte cose nel Nuovo Testamento, amore non sono comprensibili se non sappiamo quello che dice il Vecchio Testamento se non abbiamo la storia di ciò che è accaduto perché anche il Vecchio Testamento riferisce al Nuovo Testamento il Vecchio Testamento è pieno ma proprio pieno di profezie di come saranno le cose incluso il venuto di Gesù Cristo la sua morte su quella croce la sua risurrezione e la sua posizione come Re dei Rei e Signore dei Signori infatti la Bibbia è tutta cristocentrica e tutto ciò che c'è scritto è proprio per parlare al genere umano del Messia e il passo che vedremo fra poco è stato illuminato da Gesù stesso io sono andata a cercarmelo nel Vecchio Testamento incuriosita dalle parole di Gesù quando trovandosi a Nazareth non potè operare i miracoli a causa dell'incredulità dei suoi di quelli che lo conoscevano e Gesù cosa dice a tutti loro? dice che il profeta non è accetto in patria e allora cosa fa? nomina alcuni personaggi del Vecchio Testamento tra i quali Naman e io inviterei tutti a casa a prendere il capitolo secondo re capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 19 lo leggiamo insieme lo leggo io? sì Giove ora Naman capo dell'esercito del re di Siria era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria ma quest'uomo forte e valoroso era l'Ebroso ora alcune bande di Siri in una razzia avevano portato via come prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naman ella disse alla sua padrona oh se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria certamente egli lo libererebbe dalla sua lebra così Naman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così allora il re di Siria disse va pure io manderò una lettera al re di Israele egli dunque partì prendendo con sé dieci talenti d'argento sei mila sigli d'oro e dieci cambi di vestiti portò quindi al re di Israele la lettera che diceva quando ti giungerà questa lettera sappi che ti mando il mio servo Naman perché lo guarisca dalla sua lebra dopo aver letta la lettera il re di Israele si stracciò le vesti e disse sono io Dio col potere di far morire e vivere che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebra perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me quando Eliseo l'uomo di Dio seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti mandò a dire al re perché ti sei stracciato le vesti costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele così Naman venne con i suoi cavalli col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli va e lavati sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato ma Naman si adirò e se ne andò dicendo ecco io pensavo egli uscirà certamente incontro a me si fermerà invocherà il nome dell'Eterno il suo Dio agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebra i fiumi di Damasco l'Abanà e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele non potrei lavarmi in quelli ed essere mondato così si voltò e se ne andò tutto infuriato ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo padre mio se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa non l'avresti fatta tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato allora egli scese e si immerse sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio andò a presentarsi davanti a lui e disse ecco ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele perciò ora ti prego accetta un dono dal tuo servo ma egli rispose come è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto non accetterò nulla Naaman insisteva con lui perché accettasse ma egli rifiutò allora Naaman disse poiché non vuoi permetti che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano due muli perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dèi ma solo all'Eterno tuttavia l'Eterno perdoni il tuo servo per questa cosa quando il mio Signore si rega nel tempio di Rimmon per farvi adorazione e si appoggia al mio braccio se anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon voglia all'Eterno perdonare il tuo servo per questa cosa quando io mi prostrerò nel tempio di Rimmon il profeta gli disse va in pace così partì da lui e fece un buon tratto di strada io mi fermerei qui perché c'è così tanto da dire che forse nemmeno questa trasmissione basterà a poter sviluppare in tutte le sue parti ebbene io ho preso soltanto nota di alcune cose giusto per ricordare quello che ho nel cuore di condividere con tutti voi io vorrei porre l'attenzione su tutti i personaggi di questo racconto iniziando proprio da Naaman la scrittura dice che era il capo dell'esercito della Siria ed elenca tante virtù era un uomo coraggioso valoroso l'Eterno si era servito di lui per portare la Siria alla vittoria quindi già Naaman pur non essendo un credente in Dio ma credeva in altre divinità come abbiamo visto più avanti già Dio lo usava secondo il suo santo volere ma Naaman non era conoscenza allora mi piace pensare che Dio abbia permesso anche la sua lebbra e tutto ciò che abbiamo ascoltato nel racconto proprio per manifestarsi a lui proprio per farsi conoscere da Naaman e guardate tutta una serie di cose che accadono attorno a quest'uomo affinché egli conosca che il Dio di Israele è il vero Dio quindi questo racconto appunto inizia con questo personaggio Naaman dice a tutti noi che era anche molto amato e stimato dal re di Siria subito dopo entra in scena una ragazzetta una fanciulla di cui non sappiamo nemmeno il nome sappiamo soltanto che è un israelita e che è stata rapita e resa schiava da un gruppo di bande siriane che non hanno a che fare con l'esercito di Naaman ma delle bande che andavano a rubare e in questo caso hanno preso questa ragazzina e l'hanno portata in Siria come prigioniera e dove va a finire questa ragazzina questa fanciulla nella casa di Naaman il lebroso quindi Gesù scusate Dio cerca di entrare nella vita di Naaman e cosa porta dentro la sua casa una piccola credente questa fanciulla che apparentemente sembra un personaggio di serie B è determinante affinché Naaman incontri Dio e guarisca dalla sua lebra infatti cosa dice questa ragazzina alla moglie di Naaman dice oh se il mio signore se Naaman potesse incontrare il profeta che è in Samaria in Samaria egli certamente verrebbe liberato dalla sua lebra quindi questa ragazzina dà la soluzione al problema di Naaman e mi piace anche ricordare adesso la moglie di Naaman non sappiamo il nome non sappiamo nulla di lei però questa donna fece qualcosa di importante non sottovalutò il parlare di quella ragazzetta schiava in casa sua straniera non lo sottovalutò ma diede importanza alle sue parole infatti avrei voluto intitolare questo mio piccolo commento con questo titolo non disprezziamo gli ultimi e la loro saggezza la moglie di Naaman non disprezzò questa fanciulla e riportò al marito quanto aveva ascoltato da lei e il marito ascoltò anche la moglie e cosa fece andò dal re di Siria perché era giusto che facesse così per metterlo al corrente e disse al re ho sentito dire che in Israele c'è la possibilità che io venga guarito dalla mia lebra c'è un profeta capace di poter far questo e qui il re di Siria prontamente gli dice vai anzi ti darò una lettera di raccomandazioni dato che stai per entrare in un altro regno è giusto che tu porta al re questa lettera ma che cosa scrive in quella lettera scrive una cosa che sa di assurdo cioè dice a quel re al re di Israele ti sto mandando il mio servo il mio il mio capo dell'esercito affinché tu lo guarisca dalla lebra cioè a me sembra una cosa insensata ecco la ragazzina dice qualcosa di molto potente di sensato e di saggio qui vediamo invece un re un re che scrive una cosa folle a tal punto da suscitare sdegno ira e scandalo nel re di Israele che ricevendo quella lettera appunto cosa dice dice ma sono forse Dio da poter io guarire la lebra al tuo servo ma questo è un pretesto ebbene quasi quasi stava per scoppiare una guerra perché si è sentito il re di Israele preso quasi in giro dalla lettera del re della Siria e allora ripeto guardate questi due grandi uomini il re della Siria e il re di Israele privi di saggezza l'uno scrive una lettera folle l'altro si sente offeso da quello scritto e che cosa fa fa un gesto quello di stracciarsi le vesti che è un gesto raro che di solito avviene quando c'è appunto un grande lutto in un paese o un grande scandalo una grande offesa allora questo re il re di Israele si strappa le vesti e tutto il popolo viene a sapere di quest'atto e così lo viene a sapere anche il profeta Eliseo e meno male perché il profeta Eliseo manda subito un messaggero dal re gli dice perché ti sei strappato le vesti come a dire non sai che qui nel tuo paese ci sono io c'è un profeta di Dio perché non lo mandavi da me perché non lo mandi da me affinché quell'uomo sappia che qui in Israele c'è un profeta di Dio infatti meno male che il il re di Israele decide di mandare appunto Naman da da Eliseo e Naman va Naman cosa fa va a diciamo a casa di Eliseo e da buon capo dell'esercito durante il cammino ha una strategia per combattere il suo male lui era talmente abituato a formulare delle strategie per combattere il nemico che anche stavolta ne ha formulata una e ha detto certamente Eliseo il profeta quando mi vedrà uscirà fuori verrà verso di me invocherà il suo Dio poi mi toccherà e io guarirò ecco aveva il suo progetto aveva come ho detto prima la sua strategia per vincere questa battaglia contro la sua malattia ebbene ha dimenticato una cosa la battaglia che sta per combattere non è una battaglia fisica come lui è abituato a fare ma è una battaglia spirituale qui il generale non è più lui ma è un altro il generale adesso è Eliseo è l'uomo di Dio quindi lui ha la sua strategia ma Naaman preso dall'orgoglio e ancora non comprende chiaramente quello che sta accadendo attorno a lui cosa fa non vedendo uscire Eliseo ma vedendo uscire soltanto un suo messaggero punto nell'orgoglio si ribella e dice non c'erano i fiumi nel mio paese nei quali avrei potuto bagnarmi e guarire perché devo proprio buttarmi e entrare in queste acque sta per andarsene infuriato anche lui non voleva non voleva sottomettersi al volere di Eliseo che appunto gli aveva mandato il messaggero gli aveva detto di calarsi come abbiamo ascoltato sette volte nel fiume ancora una volta entrano in scena dei servi dei servi dei quali non sappiamo nulla i servi di Naaman così come la serva della moglie di Naaman sono pieni di saggezza e dicono una cosa molto semplice a Naaman dicono ma se il profeta ti avesse chiesto di fare qualcosa di molto più complesso di difficile non l'avresti fatta pur di guarire eppure ti sta chiedendo di fare una cosa semplicissima di immergerti in un fiume perché non farlo Naaman che certamente è un uomo gradito a Dio abbassa il suo orgoglio e la sua superbia ascolta quelle parole e va ad immergersi nel fiume Giordano e miracolosamente guarisce lì nel fiume Giordano Naaman non lascia soltanto la lebra lascia anche la sua cecità lascia la sua idolatria lascia tutto in quelle acque ed esce veramente come un uomo nuovo dice la parola in un'altra versione che le sue carni tornano pure come quelle di un fanciullo e mi ricordo adesso la fanciullina che lo porta ad immergersi in quelle acque quindi la fanciulla lo guida affinché anche Naaman possa diventare un fanciullo agli occhi di Dio puro puro infatti Naaman esce da quelle acque ed è un altro uomo è un uomo sano nel corpo un uomo libero un uomo convertito e desidera adesso tornare dall'uomo di Dio e riempirlo di doni quei doni che aveva portato con sé oro argento abiti lussuosi ma Eliseo non accetta nulla non vuole nulla perché non vuole che egli tornando nel suo paese possa far pensare a tutti gli altri di aver comprato un miracolo i miracoli non si comprano i miracoli sono un dono di Dio e non e questo ci fa capire anche un'altra cosa che è puoi essere potente puoi avere una fama talmente grande da essere amato e rispettato dai re della terra puoi essere ricco ma tutto questo non basta per conoscere il vero Dio e per avere i favori del vero Dio per avere i miracoli la grazia per conoscere Dio devi farti umile e devi ascoltare gli umili quegli umili che Dio mette attorno a te quegli umili che Dio mette dentro casa tua adesso vorrei aprire una piccola parentesi mentre leggevo e meditavo questo passo il mio cuore andava verso i badanti le badanti che ci sono in questo momento nella nostra Italia e che seguono e amano questo canale che amano il Signore Gesù con tutto il loro cuore quei badanti che portano spesso la fede in casa nostra nelle nostre case che sembrano le case dei credenti le case di coloro che vanno a messa la domenica ma che non hanno un rapporto personale con Dio ebbene quanti badanti venuti da altri paesi stanno portando la fede nelle nostre famiglie al televisore queste cose non si sentono si sentono soltanto quando ci sono quei badanti che picchiano gli anziani che li derubano e ci sono purtroppo anche quelli ma il mondo non parla di questi uomini che hanno dovuto lasciare uomini e donne che hanno dovuto lasciare il loro paese per un motivo o per un altro in questo caso nel racconto la ragazzetta è stata rapita molti sono costretti ai nostri tempi a lasciare il loro paese per la povertà che c'è nei loro paesi e vengono a cercare fortuna nel nostro e che cosa fanno i lavori più umili fanno i servi fra virgolette ma che cosa portano nelle nostre case portano la fede vera la fede viva nell'unico vero Dio come in questo caso fece questa piccola israelita quindi un pensiero a voi cari un pensiero a voi anche se siete dimenticati non valorizzati sappiate che il vostro Dio il nostro Dio vede quello che voi state facendo e vi ha portati in un altro paese proprio per questo e mentre appunto meditavo la parola mi è venuto anche in mente un mio ricordo personale di tanti anni fa quando mi trovavo ancora in Sicilia un giorno mia madre si sentì male ebbe una fibrillazione cardiaca e dovemmo portarla subito urgentemente in ospedale mentre eravamo nel pronto soccorso mia madre aveva questi battiti proprio altissimi e il cuore sembrava fosse impazzito io lì per lì avevo molta paura ma il Signore mi parlò in quell'istante e mi disse non temere tua madre non ha nulla siete qui in missione e io subito riferì questo a mia madre disse mamma stai tranquilla non avere paure perché il Signore mi ha parlato mi ha detto che siamo qui in missione mia madre fu ricoverata per una decina di giorni e più passavano i giorni più mi rendevo conto perché noi fossimo lì e quanto fosse vera quella parola che avevo ricevuto da Dio mia madre fu ricoverata e nella stanza d'ospedale in cui lei si trovava c'era una donna una donna molto carina molto dolce piccola bella giovane anche d'età ed era la mamma di dieci figli dieci figli ebbene io cominciai a parlare a lei di Gesù ad evangelizzare e cosa mi disse questa donna fu molto colpita dal mio parlare mi disse ti prego Pina domani tornerai a visitare la tua mamma ho detto certo verrò tutti i giorni bene perché verranno a trovarmi i miei figli alcuni vivono lontano verranno a trovarmi loro ti prego parla tutti loro di Gesù ebbene io rimasi in quella rimanemmo io e mia madre in quell'ospedale per una decina di giorni fino a quando ho potuto parlare di Gesù a tutta la famiglia c'è stato un giorno in cui gli infermieri mi rimproverarono perché sembrava una piccola chiesa quella stanza tutti i figli io che parlavo di Gesù quello che piangeva l'altro che sia mia madre che veramente sembrava in estasi e lì veramente ho potuto avere la conferma di quanto Dio possa servirsi di tutte le circostanze come hai detto tu all'inizio di ogni situazione pur di farsi conoscere da ognuno di noi un'altra cosa importante siamo alla fine però permettetemi ancora qualche minuto voglio tornare al racconto quando Naman vuole dare i doni al profeta il profeta non li accetta allora cosa chiede Naman chiede di poter caricare due asini con la terra di Israele lui vuole lasciare oro argento ricchezze e in cambio vuole portarsi la terra perché perché la terra perché non vuole più sacrificare al Dio Rimmon a quella divinità non vuole più essere un'idolatra adesso vuole offrire sacrifici all'unico vero Dio all'Idio di Israele e lo vuole fare su quella terra vuole innalzare un altare su quella terra quindi ha riconosciuto in quella in quella terra la terra nuova la terra fertile la terra santa voleva portare con sé quella terra santa che i suoi piedi avevano toccato e appunto ha caricato con circa 200 kg di terra perché sono andata su internet ho visto quanto un mulo può portare all'incirca può portare 100 kg di peso quindi ha portato nel suo paese 200 kg di terra santa per offrire i suoi sacrifici al vero Dio è un'altra cosa bella importante che fa Naman dice al profeta guarda che quando io tornerò nel mio paese io sarò costretto ancora ad accompagnare il mio re nella stanza in cui c'è probabilmente la statua di questa divinità e quindi io gli dovrò prestare il mio braccio affinché questo re si inginocchi davanti alla sua divinità e anche io dovrò involontariamente inginocchiarmi davanti a lui quindi che il Signore non diciamo non me lo attribuisca come colpa perché il mio cuore non è più un cuore idolatra lo farò soltanto per fare contento il mio re cosa dice Eliseo va in pace va in pace e pensavo quanti di noi quando incontriamo il vero Dio incominciamo ad attaccare gli altri che ancora non lo hanno non lo hanno conosciuto e vogliamo separarci da loro li giudichiamo li condanniamo invece cosa fa Naman e questo ce lo insegna oggi a tutti noi lui dice io sarò costretto a convivere col mio re io amerò ancora il mio re ancora lo servirò ma voglio che si sappia che il mio cuore non è più lì il mio cuore non è più idolatra lo farò per amore del mio re lo farò per dovere e l'uomo di Dio gli dice vai in pace in questo caso Eliseo è Gesù è Gesù che ci dice vai in pace vai in pace fai quello che devi fare l'importante che il tuo cuore sia con Dio e allora noi quando abbiamo la grazia di conoscere il vero Dio quando non ci inginocchiamo più davanti agli idoli se dobbiamo stare ancora con gente che purtroppo vive l'idolatria non li giudichiamo non li condanniamo abbiamo pazienza di attendere il loro tempo la loro conversione così come Dio ha avuto pazienza di attendere la nostra anche se si doveva inginocchiare davanti a una statua lui sapeva che Dio non gli imputava la colpa perché ormai era un uomo libero la sua lebra si era allontanata da lui era un uomo che aveva riacquistato la vista era un uomo sano c'è tanto altro da dire ho detto soltanto una piccola parte ma vorremmo torneremo ancora su questo racconto perché è veramente pieno pieno di sapienza di saggezza e come ho detto prima il titolo che volevo dare a questo racconto è di non disprezzare gli ultimi di non disprezzare i piccoli perché Dio si serve proprio di loro infatti ho scritto qui da qualche parte proprio questo che i grandi i re i re di Siria i re di Israele stavano veramente facendo scoppiare una guerra e invece una piccola fanciulla un profeta che spesso i profeti sono disprezzati condannati relegati a stare in posti dove nessuno li vede i servi stessi di Naman hanno dimostrato di avere saggezza saggezza più dei re quindi non disprezziamo gli ultimi non disprezziamo i piccoli non disprezziamo gli stranieri perché da loro può arrivare la grazia che stiamo aspettando la grazia della conversione nelle nostre famiglie la grazia del miracolo fisico della liberazione dallo spirito dell'idolatria o del male da loro arriverà tutto questo e non dai grandi che magari cerchiamo di contattare telefonicamente di scrivere di avere appuntamenti con i grandi non saranno i grandi che ci porteranno a Dio infatti Gesù lo ha detto padre ti esalto perché a te è piaciuto rivelarti ai piccoli e non ai saggi e ai sapienti di questo mondo bravissima amore grazie grazie tante il nostro tempo oggi non mi permette di leggere delle richieste ma il Signore le sa e voglio invitare tutti voi a unirvi con noi e preghiamo per tutte le persone rappresentate con queste e anche le vostre richieste ok padre celeste veniamo a te nel nome di Gesù e Signore io e Pina e tutti coloro che si sono uniti con noi in questa preghiera innalziamo a te tutte le persone rappresentate dalle richieste ricevute da noi e quelle indicate da altre persone in questo momento a te noi sappiamo padre che tu sei già corrente di ogni esigenza ogni necessità e ti ringraziamo per il privilegio di poter partecipare Signore nelle tue opere nelle tue risposte nel tuo amore nel nome di Gesù Amen e Amen Dio vi benedica grandemente e la sua pace resta sempre con tutti voi per adesso ciao da Chuck e Pina ciao ciao vorrei notare te di più ancora di più vorrei notare te di più ancora di più cercare le tue vie pensare alle cose che hai fatto ascolta il cielo un canto un canto